Lasciamo la cronaca, parliamo della Smith di Saline di Volterra perché ha slittato l'incontro al Ministero tra i vertici dell'azienda e i sindacati. Slitta al 24 giugno l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico sulla vertenza Smith di Saline di Volterra, l'azienda che occupa complessivamente 193 addetti e ha minacciato nelle scorse settimane di voler chiudere lo stabilimento e cessare l'attività nel sito produttivo pisano. L'annuncio dello slittamento dell'incontro inizialmente previsto per il 19 giugno, quando la proprietà avrebbe dovuto presentare un piano industriale, è arrivato dalla regione toscana. Ci auguriamo, scrivono in una nota il presidente Rossi e l'assessore alle attività produttive Simoncini, che nei prossimi giorni il clima pesante che ha caratterizzato nelle ultime ore i rapporti fra lavoratori ed azienda, possa stemperarsi grazie all'impegno di entrambe le parti, recuperando positive relazioni sindacali. Venerdì scorso, infatti, dopo la decisione dell'azienda di mettere in libertà quasi tutti i dipendenti, i lavoratori avevano duramente contestato il capo del personale lanciando uova alla sua auto all'uscita dello stabilimento. L'auspicio, concludono Rossi e Simoncini, è quello di far sì che l'incontro del 24 possa essere un momento importante verso una soluzione positiva della vertenza, realizzando l'obiettivo fondamentale del mantenimento sul territorio di questa importante realtà e la salvaguardia di un'occupazione qualificata. Intanto, il sindaco di Volterra, Marco Buselli, sottolinea che il momento è delicatissimo e non conviene fare passi falsi e rinnova la sua vicinanza ai lavoratori e invita al coordinamento tra tutte le componenti, anche se non è facile, manteniamo tutta la calma che è possibile raccogliere.